Io sono arrivato fino ad andare a toccare di esercizi qua, però l'aria buttava in su, quindi se ci vuole andare, lo trovi perché non puoi farlo fisicamente no. Questa zona qua, non lavoravo io, però qui, siccome l'aria tirava su, magari ti arriva da sotto. Stai proprio a bancarmi a casa, c'è ragione che ne vengono a morire. Qua sotto secondo me è da controllare, l'ideale sarebbe fare il giro. Scuso, scendete di qua e buttami dentro la sua scamera di qua. Qua, fino al frattempo, a mia corteccia, guarda lì sotto e facciamo una ricerca sulla sua scamera. Ok, quindi c'è l'asfalto di scuola, e poi da sotto. Ok, se vedi che ti va verso l'asfalto, ve lo dici. Mi senti? Ok. 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 Ok.